Ciao a tutti, continuiamo il nostro viaggio nel radiante fresato, continuiamo a fare informazioni su questo aspetto perché, come dico e ripeto, è un sistema diverso dagli altri che vorrei che fosse conosciuto meglio e che fosse soprattutto soggetto a meno disinformazione e proprio per questo motivo ho deciso di rispondere alle vostre domande, ai vostri dubbi e anche a qualche fesseria che viene raccontata e dal momento che io preferirei evitare che il mio canale sia veicolo di mala informazione vorrei rispondere anche a queste piccole schermaglie se vogliamo chiamarle così. Allora la prima domanda che mi sono fatta è perché hai fatto il radiante in casa se andavi già bene con i radiatori? E a questa domanda si può rispondere in due modi. La prima è perché a casa mia faccio quello che mi pare, credo, no? Se io voglio fare a casa mia il radiante, se io voglio disfare tutto e rifare tutto nuovo, se io voglio fare le pareti viola a pua gialli, a casa mia la posso fare, non devo chiedere il permesso a qualcuno, giusto? Beh, ma il secondo motivo è fondamentalmente che dovevo rifare il pavimento, dovevo comunque fare dei lavori, a questo punto rifaccio i pavimenti perché non fare un radiante, no? Quindi il radiante fresato era il sistema che mi permetteva di modificare il mio impianto di riscaldamento tenendo conto che comunque dovevo rifare i pavimenti al costo più basso possibile perché al di là appunto di dover andare a fare la fresatura e la posatura dei tubi, il resto era uguale a fare un pavimento, quindi sicuramente era il sistema più economico, più rapido e meno invasivo, no? Rispetto a dover disfare tutto, massetto, abbassare, brigare, fa. Quindi i motivi fondamentalmente sono questi. Altri, qualcuno ha detto, ah ma è il solito video marchettaro, ti hanno pagato, ma magari ne avessero pagato, anzi euro termine, dammi dei soldi, porca miseria, almeno una cesta, invitami a cena, ti sto facendo vendere un sacco di impianti, mannaggia a te. Cioè adesso voglio dire, magari ne avessero pagato, nel senso, scherzi a parte, cioè non è che io ogni volta che parlo di un prodotto è perché sono pagato, cioè se io a casa mia ho montato lo zero max di euro term non è che posso dire che ho montato un'altra roba, ho montato lo zero max di euro term, lo devo, lo dovrò pur dire, o no? Cioè non è che quando parlo di Daik mi paga Daik, quando parlo di Panasonic mi paga Panasonic, quando parlo di Templar mi paga Templar, quando parlo di Mitsubishi mi paga Mitsubishi. Ma che discorsi sono? Io sono un installatore, parlo di ciò che conosco, parlo di ciò che installo, punto. Poi se i signori mi vogliono pagare, io sono disponibile, non c'è problema, sono sempre qua, vi mando l'Iban e vi pagate. Così non vado neanche più a lavorare. Sto qua, faccio dei video promozionali, faccio la ferragni delle pompe di calore, siamo già a posto così. Ma visto che non è il mio ruolo e purtroppo non mi paga nessuno, io semplicemente parlo di ciò che conosco e non di ciò che non conosco. Ok? Bene, andiamo avanti alle domande più interessanti forse. Allora, alcuni mi hanno chiesto ma se mi cade un oggetto pesante, si rompe, si può danneggiare l'impianto radiante fresato, visto che sotto la piastrella? La risposta è che è praticamente impossibile. È praticamente impossibile perché manco se fossi Obelix col menhir sulla schiena, che ti scivola il menhir, ti cade per terra, potresti rompere l'impianto fresato. Ma perché questo? Perché per rompere una piastrella di grass, per dire, ma anche del parquet, perché no? Avete idea di cosa ci voglia per rompere una piastrella di grass? Già solo per fargli una crepa devi andarli con un martello e picchiare come un dannato, per fare la crepa. Figuriamoci per sfondare la piastrella, farla saltar via, arrivare al tubo, che comunque a livello del massetto e di conseguenza non sporgendo comunque allo spessore, quindi non si schiaccierebbe, arrivare nel tubo, continuare a picchiare finché non rompe il tubo. Ma è una cosa praticamente impossibile, cioè dovrebbe saltare tutto il solaio per rompersi il radiante. Quindi non abbiate paura sotto questo aspetto, non ci sono problemi. Stessa cosa perché vi diceva, ho sentito alcuni chiedere, ma se faccio il radiante rischio di rompere o di tagliare dei cavi elettrici sottostanti? Anche lì la risposta è no. Perché no? Perché io quando faccio il radiante e ho una piastrella, ho un centimetro di piastrella più o meno, altri 3-4 mm di colla, noi scaviamo un millimetro, un centimetro e sei, quindi vuol dire che noi il massetto lo andiamo appena 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 a sfiorare. Ora io non ho mai visto una guaina elettrica sotto una piastrella, in genere è immersa nel massetto, ma immersa di parecchi centimetri, non è che sta sotto le piastrelle. Se la guaina fosse sotto la piastrella, quindi all'altezza della colla, è l'impianto elettrico che non è a norma. Ma a me non è mai capitato di trovare una guaina sotto una piastrella. Poi, per carità, se ti ha fatto l'impianto a mio cugino, lì il problema di a mio cugino, non è dell'impianto fresato. Altra cosa che mi viene chiesta è, ma funziona anche sul perché? Ecco, lì la risposta è NI. Perché dico NI? Perché abbiamo già detto che il fresato, perché funziona bene? Perché non ha questo fatidico problema delle dispersioni, almeno nella maggioranza dei casi. Perché il calore va dove trova minor resistenza termica, maggior conducibilità. Quindi, logicamente, maggiore è la mia trasmittanza termica che ho sulla parte superiore, quindi sul mio rivestimento, minore sanno le dispersioni che vanno verso il basso. Se io uso una piastrella da 7-8 mm, 1 cm, è logico che il calore andrà tutto sulla piastrella, piuttosto che nel solaio che è di 20 cm. Questo lo dice la matematica, lo dice la termodinamica. Ma se già io metto un bel parquet, anche un po' spessino, è logico che io vado ad aumentare la mia resistenza superiore e quindi in proporzione potrei, potrei potenzialmente disperdere di più verso il basso. Poi, a mio avviso, resta il fatto che se voi avete già solo un solaio reggerito, il problema non sussiste. Però, teoricamente, tenendo conto di questo principio, il parquet è un pochino più deficitario sul sistema in cui si gioca, appunto, sugli equilibri termici di trasmittanza. Poi resta il fatto che il parquet, a prescindere sui sistemi radianti, non è sicuramente il rivestimento per eccellenza. Quindi, anche se avete un radiante tradizionale, col parquet dovete comunque lavorare a temperature un filinino più bassi, più alte. Proprio perché avete un sistema di trasmissione che di per sé è un isolante. Ok? Quindi, volendo si potrebbe usare il perché, però, valutate bene, in maniera ancora maggiore, più del solito, come se fossero le piastrelle, la trasmittanza del vostro solaio, la strategia che finisce del vostro solaio. Quindi, sicuramente è, per esempio, un ostacolo in più, però non necessariamente è un vincolo. Ok? Ora passiamo alle fesserie, ovvero a quelle domande che in realtà sono affermazioni dette da persone che non sono affetti da ignoranza di tipo 1, ma da ignoranza di tipo 2. Se potete sapere cos'è l'ignoranza di tipo 1 e di tipo 2 andate a vedervi il video precedente che parla del fresato. Allora, la prima domanda, la prima affermazione che è stata fatta è il fresato non può essere usato per fare freddo perché ti condensa sotto al pavimento. Questa affermazione che mi ha fatto molto ridere, l'ha fatta un utente, adesso non mi ricordo neanche il nome, quindi qualcosa, non è quello importante. Non ho fatto neanche gli screenshot di tutte queste domande perché non voglio darne anche troppa importanza ad affermazioni così dissennate. Comunque, per far capire a tutti quanto queste cose siano sciocche, spieghiamo le cose a tutti quanti così chiariamo il concetto. Allora, quando si fa freddo con il radiante si tiene sempre e comunque conto di un aspetto in particolare che è la temperatura di rugiada. Cos'è la temperatura di rugiada? È la temperatura alla quale l'aria in ambiente comincia a condensare e questa temperatura varia in base al tasso di unità, in base a tutta una serie di fattori che appunto vanno a influire sulla precipitazione della condensa, quindi del vapore acqueo, nell'aria. Ora, per quale motivo questa è una grande fesseria? Per quale motivo diciamo che è impossibile una cosa di questo tipo, che mi condensi il tubo sotto al pavimento? Per due motivi fondamentali. Il primo motivo è se non c'è aria o ce n'è pochissima, cosa deve condensare? Cioè se io metto il tubo incastrato nel mio scavo, nella mia fresatura e sopra lo immergo con la colla, quanta aria ci può essere per creare della condensa? E oltretutto, anche se ci fosse un pochino d'aria, è così poca che nel momento in cui si raggiunge l'equilibrio termico, la condensa è finita. Quindi se la fa, se facesse una goccia di condensa che non la fa, che non la fa, sarebbe una goccia di condensa e poi è finito. Ok? Ma ho detto per assurdo, perché non la fa la condensa. E sapete perché non la fa? Perché tutti i sistemi radianti a pavimento o a soffitto sono collegati per forza di cose a una centralina domotica che mi va a gestire proprio la temperatura dilugiata. Ok? Quindi ci deve essere un sensore di temperatura umidità che mi va a controllare l'umidità nell'ambiente e che in base alla temperatura dimandata dei radiatori, del radiante, mi va a gestire l'umidità. Ok? Quindi fa in modo che la temperatura del radiante non sia mai talmente bassa da farmi condensare l'aria. E questo tramite che cosa? Tramite il controllo della temperatura e soprattutto tramite un sistema di deumidificazione. Quindi chi dice queste cose sono personaggi che probabilmente non hanno mai fatto un sistema radiante in freddo, non sanno come funziona e probabilmente loro per fare, secondo loro, per rinfrescare una casa con radiante si butta l'acqua a 7 gradi sotto al pavimento e via andare. Ma se tu pensi una cosa del genere io spero veramente che tu non sia un installatore. Spero veramente che tu non sia un installatore. Perché altrimenti fai dei grandi danni. Ok? Quindi si può tranquillamente fare freddo col fresato. L'Eurotan, come altri marchi volendo, io parlo di Eurotan perché conosco quello, ha già delle centraline che ti permettono di controllare temperatura, umidità e endomotica e quindi di gestire tranquillamente la temperatura dilugiata. Quindi problemi zero. Mi ha fatto ridere che questo personaggio ha detto ah no ma in realtà perché poi dopo non sapeva più come girarsela, potrebbe anche essere l'umidità che viene dal solaio. Ora innanzitutto mi fa ridere il fatto che un solaio debba essere per forza umido. Perché deve essere umido un solaio? Se un solaio è così umido da crearmi condensa, io dovrei trovare il problema al piano di sotto. Cioè dovrei avere la vernice che si stacca sotto, non sopra. Cioè quando c'è una perdita in bagno non si accorge in genere chi è in bagno, si accorge chi sta sotto perché si stacca la vernice, si furono le macchie, può fare qualche gocciolina, no? Funziona così di solito. Quindi se ci fosse umidità nel solaio avremmo già un problema molto tempo prima di mettere il fresato. Avremmo delle grosse macchie di muffa, umidità, umidità che si sclostra nella parte sottostante. Perché l'umidità naturalmente va verso il basso, va in precipitazione. Lasciamo perdere la capillarità che quello non c'entra niente. Quindi è impossibile che un radiante fresato possa condensare sotto al pavimento. A meno che non ci siano delle microporosità che possa entrare molta aria e io faccia lavorare il mio radiante a 7 gradi come un ignorante e allora vado a cercare. Ma questo varrebbe anche per un radiante d'altro tipo. Nel senso che anche un radiante tradizionale, se faccio lavorare a 7 gradi e mi fa la condensa sul pavimento. È ovvio, è scontato. Il problema è saper fare o non saper fare le cose. Punto. Altra cosa che è stata detta, mi ha fatto ancora più ridere, è sempre lo stesso personaggio poi tra l'altro perché poi i fenomeni si distinguono. Che io non farei mai il radiante fresato perché io andando a scavare vado a indebolire il solaio. Ora, abbiamo detto prima che quando noi andiamo a fresare, andiamo a fresare un centimetro di piastrella, 3 mm di colla e eventualmente 1-2 mm, 3 mm al massimo di massetto. Ora, da quando in qua in una struttura, una struttura portante, il pavimento, la colla e il massetto fanno parte della struttura portante. Che io sappia è il solaio che fa parte della struttura portante, non il massetto. Quindi, ammesso e non concesso che io vada a fresare 2 mm di massetto, delle due lo alleggerisco il solaio, non lo appesantisco, delle due, ok? E lo so bene perché ne ho portati parecchi di sacchi di roba fresata da su a giù e quanti quintali di roba abbiamo levato. Quindi questa è un'altra grande fesseria detta da persone che probabilmente o istantipate quel fresato o hanno preso di posizione, non lo so. Tant'è che questo stesso personaggio diceva ma disperde. Ma hai visto il video? Sì. Hai visto che la temperatura sottostante era più bassa la temperatura dell'aria? Sì. Quindi non disperde? No, disperde e basta. Così, per peso di posizione. Vabbè, ma lo lasciamo credere. Ognuno poi può credere in quello che vuole. Oggi come oggi c'è piena libertà di credere in qualunque cosa. Che la terra sia piatta, che una subretta possa saperne di più di virus, di un virologo, di tante cose. Uno può credere quello che vuole, non c'è problema. Altra cosa, e la chiudo perché abbiamo già fatto 17 minuti di video, direi che sono sufficienti. Un'altra cosa, ho dovuto dire da Edili in questo caso, io non faccio l'impianto radiante fresato perché si crepano le piastrelle. Anche questa, ragazzi, è tosta. È tosta. Allora, queste cose dette da un muratore o anche da un installatore sono molto gravi. Cioè, veramente evidenziano il basso livello tecnico che abbiamo in Italia, purtroppo. Allora, la temperatura superficiale di un impianto radiante a pavimento, per legge, non deve superare i 29 gradi. Ora, spiegatemi quale piastrella, passando da 22 a 29 gradi, si crepa. Spiegatemelo. Cioè, non è che prendiamo una piastella, la mettiamo a meno 20 e poi la buttiamo in un forno a 400 gradi, che allora potrebbe succedere. Noi passiamo da 20, 21 a 29 gradi. Si può rompere una piastella per una differenza di termica di questo tipo? Allora, se io ho un salone da 400 metri quadri e non metto neanche un giunto, mi si può crepare, ma per le dilatazioni fisiche del pavimento, non perché metto il fresato, ma in una casa normale, in stanze normali, in saloni che possono essere 30, 40, 50, 60 metri quadri, anche se non metto un giunto e metto il radiante, di norma problemi non ce ne sono. E se ce ne sono, sono legate alla struttura stessa del pavimento, non del fatto che io metto un fresato. Anzi, se vogliamo dirla tutta, il fresato, essendo attaccato alla piastrella, lavora addirittura a temperature leggermente più basse di un radiante a massetto. Quindi dà ancora meno problemi alla piastrella. Come dico e ripeto, il problema non è nei sistemi che vengono usati, il problema è nei chi li assembla, di chi li installa e di chi sa o non sa fare le cose. Non voglio fare un video polemico, però purtroppo la realtà è che molto spesso ignoranti di tipo 2, ovvero quelli che criticano quello che non conoscono, creano danni. Creano danni perché pur di andare avanti per la loro strada, pur di non informarsi, pur di non aggiornarsi, partono dal concetto che ciò che non conoscono è sbagliato. Ciò che non sanno è errato, è da evitare. E questo per me è l'esatto opposto di quello che vi ringrazio per la vostra attenzione, vi do un caro saluto, un forte abbraccio da Antonello. Ciao ciao!